Non è facile, ma io ho giocato anche un anno alla Juve e vi posso assicurare che sono due cose completamente diverse. L'allenamento di alla Juve, almeno quando ci giocavo io, erano aperte al pubblico. C'erano quei 10-15 persone un po' datate che venivano a vedere l'allenamento. Se facessero gli allenamenti aperti a Trigoria, ci sarebbe il Maracanoni. Quindi questo testimonia l'amore diverso che c'è tra i tifosi della Roma verso la squadra e un altro tifoso, nel mio caso, quelli della Juve. C'è un muatore senza Ciccio?